Un'auto speciale a disposizione di tutti i disabili che non possono permetterse né una. È l'iniziativa di Rita Damiani, la figlia di Maria Elena Barile, la 56enne barese affetta da sclerosi multipla, che nei giorni scorsi ha subito il furto della sua auto, attrezzata per la sua disabilità, poi restituita dai ladri con un biglietto di scuse dopo l'appello social diventato virale. La figlia ha lanciato una raccolta fondi perché dopo il triste furto si è scatenata una forte catena di solidarietà e sono state tante le proposte di Collette per riacquistare un'auto a Maria Elena, che sin dal primo momento ha accettato, ma a condizione che non fosse solo per lei. Voleva e vuole tuttora che sia donata ad un'associazione in grado di fornire gratuitamente a tutti il servizio di trasporto in Puglia. L'associazione individuata è Angeli Senza Frontiere, come spiega il presidente dello stesso sodalizio, Vito Plantamura. Sì, c'è stato questo inconveniente, cioè di queste persone che hanno sottratto l'auto a questa persona disabile, la signora Maria Elena Barile, e quindi già dalle prime ore in cui si era scoperta di questa sottrazione del veicolo è partita sui social, un tam tam, e la gente voleva aprire una raccolta fondi per acquistare nuovamente l'auto, che poi è stata ritrovata. Però la famiglia, e quindi si è fatta promotrice anche la figlia Rita Damiani, ha preferito che la campagna fondi continuasse, la raccolta fondi andasse avanti per donare ad un'associazione un veicolo, nella fattispecie probabilmente un Fiat Doblò attrezzato, che potesse essere utilizzato per venire incontro alle esigenze di tante altre persone. In effetti il Doblò risulta utile in quanto ha le dimensioni per poter entrare nei centri storici dove le strade sono abbastanza strette. E quindi Rita Damiani, cioè la figlia, ha pensato di devolvere il ricavato di questa raccolta fondi alla nostra associazione. E noi di questo siamo molto orgogliosi perché gratifica un po' la nostra serietà e il nostro impegno nel sociale.